Giornata di festa in casa Pro Recco, celebre squadra Ligure di Pallanuoto. Con un ospite speciale, Antonio Cassano, che ha pranzato con Gabriele Volpi, presidente del club e dello Spezia. «Sono qui solo per la Pro Recco», ha detto Cassano. «Ma potrebbe esserci qualcosa di più. È molto simpatico», ha detto poi Volpi. «Abbiamo parlato un po', nulla di concreto. Vederlo in campo sarebbe bello. Per tutti gli sportivi, non è semplice. Vediamo. Intanto ci siamo conosciuti.